In attesa della decisione del governo sulla ripresa del campionato di Serie A, ricordiamo l'incontro previsto giovedì 28, iniziano a prendere forma le varie ipotesi sulla ripartenza. Il massimo campionato può riprendere dai recuperi della 25esima giornata, ovvero Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Queste partite si giocherebbero tra il 13 e il 14 giugno, mentre dal 20 la prima giornata intera. Detto questo, dopo la Bundesliga, anche la Liga si avvia verso la ripresa. Niente da fare invece per la Francia, come noto, che ha deciso di interrompere la stagione assegnando il titolo al PSG e bloccando la qualificazione alle Coppe europee per il prossimo anno. Furioso il presidente Aula del Lione, che vede compromesso il cammino anche della Champions in corso. La squadra di Rudi Garzia, lo ricordiamo, lo scorso 26 febbraio si era imposta per 1-0 sulla Juventus nell'andata degli ottavi di finale. Dunque la Juventus molto probabilmente tornerà in campo, al contrario il Lione non giocherà. Dunque si stanno creando davvero grosse difficoltà per il campionato francese. Tornando nella penisola tricolore italiana non è affatto tramontata la possibilità di una riforma dei campionati per ridurre in modo drastico le società professionistiche. Una misura sempre più necessaria per fronteggiare nel migliore dei modi una crisi economica tangibile. L'idea non abbandonata dai piani alti della FIGC è quella di comporre la Serie B a due gironi. 20 squadre per ogni gimone promossa, la prima e mentre la terza uscirebbe dal play-off, naturalmente play-off da giocare tra un accoppiamento tra i due gironi. Poi sei retrocessioni in Serie C. A dirla tutta ci sarebbe già un accordo per le quote dei diritti televisivi. La quota che oggi va alla C andrebbe alla Serie B. Oggi la Lega di Balata prende il 6% dai diritti TV della Serie A. Con la riforma andrebbe a prendere il 10%. Con una differenza, i club che sono già in Serie B spetterebbe il 6%, mentre i club arrivati in Serie B attraverso la riforma si dovrebbero accontentare del 4% dei diritti televisivi che arrivano dalla Serie A. Aumenterebbe anche la percentuale per il voto in federazione per la Lega di A, la Lega di B e la LND. Insomma, a pagare maggiore dazio l'attuale Lega Pro, bisogna cogliere i segnali per provare ad anticipare i tempi. In tal senso, la proposta improvvisa di Ghirelli, chiusura della Lega Pro, poi bocciata di sasso da gravina, potrebbe essere un indizio. Inoltre, un'altra Lega a trionfare in questa riforma sarebbe proprio quella di Cosimo Sibilia, che andrebbe a prendersi due categorie, la terza serie e la Serie D. Terza serie dunque composta da 60 società, 30 gironi da 20 con 40 squadre che oggi sono in Lega Pro, da trasformare in società non a scopo di lucro e che resterebbero fuori dalle 20 promosse in Serie B, più le 9 già promosse dalla D e altre 11 che arriverebbero sempre dal campionato di quarta serie, scelte giustamente per merito sportivo, come ha sempre detto Sibilia. Coerenza e merito sportivo alla base della riforma, insomma quello che sperano vivamente sia a Campobasso ma anche a Foggia, ad esempio. Poi ci dovranno essere gli impianti adatti, almeno 1.500 posti, settore ospiti da 500 posti, con seggioline e impianti di illuminazione a norma. Nella nuova terza serie, la prima di ogni girone andrebbe in Serie B, più la vincitrice dei play-off di ogni singolo girone, per un totale di 6 promosse, mentre ci saranno 9 retrocessioni in quarta serie, ovvero le ultime 3 di ogni girone. Infine la Serie D resterebbe a 9 gironi da 18 squadre, una riforma utile a tutti, alle tasche delle leghe e dei club, soprattutto zero ricorsi e finalmente solo 60 società professionistiche, una riforma che ha già il benestare del governo e del CONI, due sì decisi che potrebbero essere fondamentali anche come merce di scambio per far ripartire la Serie A. Il 3 giugno segniamo questa data dove il calcio potrebbe cambiare forma e rivedere il suo format.